Brutte notizie sono arrivate direttamente da Piano Gentile, sede della formazione dell'Inter, alla vigilia di una delle partite più attese della stagione, l'esordio dei nerazzurri in Champions League contro il Manchester City. E purtroppo si sono confermate due perdite importanti, che potrebbero incidere sulla programmazione della squadra guidata da Simone Inzaghi. Sia Marco Arnautovic che Federico Di Marco non saranno disponibili per la sfida in Inghilterra. L'attaccante austriaco, secondo le informazioni diffuse dalla Gazzetta dello sport, si è svegliato con la febbre, che gli ha impedito di svolgere l'ultimo allenamento. Le condizioni fisiche di Arnautovic sono motivo di preoccupazione e con l'avvicinarsi della partita lo staff tecnico ha deciso che sarebbe stato meglio risparmiarlo per non correre rischi maggiori, soprattutto in un momento così cruciale della stagione. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per altre novità sull'Inter. Anche il terzino sinistro Federico Di Marco, che è stato un giocatore fondamentale sull'ala dell'Inter, non potrà viaggiare con la squadra Manchester. Di Marco, accusato uno stiramento muscolare al termine della partita contro il Monza, partita nella quale è stato uno dei protagonisti. Nonostante l'infortunio non sia considerato grave, il recupero richiederà cure e non sarà convocato per il duello contro il City, lasciando un voto importante nello schema tattico di Inzaghi. Queste due assenze aprono interrogativi su come l'allenatore dell'Inter affronterà queste sconfitte, soprattutto considerando la qualità dell'avversario. Il Manchester City, attuale campione della Champions League guidato da Pep Guardiola, è noto per la sua intensità e il suo dominio in campo, che rendono ogni partita contro di loro una grande sfida. Simone Inzaghi, noto per la sua capacità di gestire la squadra e apportare importanti modifiche tattiche, deve ora affrontare la sfida di mettere insieme una squadra competitiva nonostante queste perdite significative. Non si tratta solo di sostituire i giocatori, ma di garantire che la squadra mantenga la sua coesione e la capacità di competere ad alto livello contro una delle squadre più forti del mondo. Nonostante le difficoltà, l'Inter ha dimostrato in più occasioni di essere una squadra resiliente, capace di superare le avversità e di reinventarsi quando necessario. Ora gli occhi sono puntati su come si comporterà la squadra a Manchester e su come Inzaghi adatterà i suoi pezzi per affrontare il City di Haaland, De Brune e compagnia. E tu, tifoso nerazzurro, cosa ne pensi di queste perdite di Arnautovic e Di Marco? Come crede che l'Inter debba riorganizzarsi in vista di questo importante scontro? Lascia la tua opinione nei commenti e forza Inter sempre!